Un ricordo. Non si sentiva alcun rumore, alcun pianto nel villaggio. Niente di simile a un suono dopo le armi. Solo dietro un muro il sommesso singhiozzare delle donne, lo schicchiolio di una porta, un cane smarrito e nient'altro. Silenzio che si potrebbe sentire. Nessuna pietà nel silenzio, orribile, fluido come il sangue e macchia tutte le strade. Nel mezzo della via due cadaveri insepolti. Lo sguardo fisso di una donna uccisa dalla baionetta nella piazza del mercato. Gente umile e rovinata. Per loro nessun orgoglio di conquista. La loro sola preghiera, oh Dio, dazzo il nostro pane quotidiano. Non dal fuoco della battaglia, non dai proiettili siamo perseguitati. Chi ci libererà dal ricordo di queste morti? Grazie a tutti.